Ti ringrazio direttore, senti una cosa, mi a te l'ho fatto riferimento che sul decreto attuativo, sulla legge non l'ho capito bene, sono citate le carte o realizzazioni sugli NPL, ora le carte o realizzazioni sugli NPL sono di una gravità tale, in quanto verranno vendute a ignari risparmiatori sulla base di crediti che naturalmente noi poi andremo a contestare eccetera, siccome dietro queste carte o realizzazioni ci sono le GAX, ovvero le garanzie sulle carte o realizzazioni a sofferenza introdotte dal governo Renzi-Padoan-Boschi e naturalmente prorogate da questo governo che andranno a far scoppiare lo Stato, noi faremo la fine della Grecia proprio per questa situazione qui, stiamo parlando di centinaia e centinaia di miliardi di Euro, perché non ci sono solo i 18 miliardi, 900 milioni di popolari di Vicenza e Veneto Banca, ma ce ne sono tantissimi altri, pensa che solo Monte Paschi di Siena ne ha per 46 miliardi tanto per andare su una banca, ma ce ne sono per circa 350 miliardi di Euro come ho detto, ma poi ci sono anche quelli che non hanno debiti ma che devono lo stesso recuperare soldi già pagati o in corso di pagamento e quindi è un mare magnum che forse siamo nell'ordine di 500-600 miliardi e forse anche più di Euro, stiamo parlando di una cosa che fa non scoppiare lo Stato, di più, quindi ti chiedo per favore di approfondire questa cosa qui perché la gente deve sapere verso dove va e tu ritengo tu sia l'unico che è in grado di fare questa cosa qui, te ne devi assumere, non dico la responsabilità, ma perlomeno l'onere di informare la gente di questa cosa che è in male, ti ringrazio moltissimo. Siamo con Alfredo Belluco che è il presidente di Confeder Contribuenti del Veneto, una delle associazioni dei consumatori più attivi nell'ambito delle contestazioni al sistema bancario. Il suo volto è divenuto noto al grande pubblico durante la vicenda che ha portato a uno dei più gravi rovesci bancari della storia recente, ovvero quelli della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Ma non ci sono solo i crack fra le preoccupazioni dell'associazione che ha sede a Casal Serugo nel Padovano. Da mesi Belluco sostiene l'esistenza di un grande imbroglio, allorquando si parla della vicenda dei cosiddetti crediti deteriorati che le banche italiane avrebbero in pancia. Per il presidente, quelli relativi ai piccoli prestiti, ovvero quelli erogati a piccoli imprenditori e a famiglie, non vanno conteggiati come crediti deteriorati perché le banche poco o nulla avrebbero a pretendere da questi piccolissimi presunti debitori. Il motivo? Se si analizzano nel dettaglio i rapporti bancari in essere, si scoprirebbe, questa è la tesi di Confeder Contribuenti, che in realtà la maggioranza delle partite è viziata da oneri inopinatamente richiesti ai debitori, i quali spesso sarebbero anche vessati da usura, il che comprimerebbe ancor più le pretese da parte delle banche, le quali in passato avrebbero gonfiato il paniere dei crediti presunti presso terzi per rendere più allettanti i propri bilanci per borse e investitori. Fatta questa premessa, in merito alla cherella sui cosiddetti crediti non performanti, Confeder Contribuenti, che cosa ha da dire a riguardo? Abbiamo da dire che quelli sopra una certa cifra, diciamo i 300-500 mila euro, molto spesso sono incontestabili, ma quelle cifre, specialmente quelli sotto i 100 mila euro, possiamo dire che sono tutti contestabili, c'è una grande banca con sede in tutto il territorio nazionale, la terza banca è diventata tra l'altro, che noi possiamo contestargli praticamente tutti, perché ha applicato in tutto il periodo degli ultimi 10-12 anni delle spese e commissioni che vanno ben al di là del tasso soglia di usura, glielo abbiamo anche scritto sia all'amministratore delegato che al presidente della banca, ancora a marzo, naturalmente non ci danno nessuna risposta, però noi possiamo dire che quella banca, come quasi tutte le altre banche, se non tutte, sicuramente fino al 31 dicembre 2009, sicuramente fino a quella data, ma anche successivamente, possiamo contestare tutti i conti correnti affidati, ma c'è un fronte che molti non sanno che è il fronte dei mutui, i mutui prima casa che sono viziati da interessi, spese, commissioni e anche gli interessi di mora che sommandoli vanno a superare il tasso soglia di usura e sono contestabili, quindi anche se si sono fermati per effetto di difficoltà economiche della famiglia o dell'impresa, molto spesso non sono dovuti gli importi che chiedono loro. Ecco, un quadro così descritto farebbe pensare a una situazione che è allarmante non solo sotto il profilo bancario, ma anche sotto il profilo sociale, perché dalle vostre parole emerge questa situazione, cioè che in realtà da anni il sistema bancario drena nei confronti dei risparmiatori, delle famiglie, dei clienti, più di quanto sarebbe lecitamente consentito. È corretto affermare una cosa del genere e soprattutto voi vi siete fatti un'idea delle cifre che potrebbero essere in ballo? Allora, noi abbiamo esaminato circa 4.000 rapporti e circa 3.200 sono in contestazione e quelli che abbiamo in contestazione, ne chiudiamo in transazione o a livello di sentenza, 2, 3, 4, 5 alla settimana. In un giorno ne abbiamo chiusi 5, con 5 banche diverse, quindi abbiamo i motivi di credere, anzi la certezza, che le banche ne hanno combinate di cotti di crude e hanno la tendenza naturalmente a tenere soffita la cosa. Il problema è che, come ho detto prima, la gente deve sapere che prima di pagare deve esaminare il suo, il proprio rapporto, perché ci troviamo di fronte a un marasmatare e le banche hanno gonfiato tutto, hanno gonfiato tutto il loro, anche per abbellire i loro bilanci, per essere più appetitose in borsa dal punto di vista della loro azione. Questo hanno fatto in un periodo di circa 10-15 anni e adesso devono pagare il fio, e adesso vendono a pacchetti da 10, 12, 15, anche 40 miliardi di euro questi NPL, ma chi li compra sa cosa compra, lo sa che noi li contestiamo praticamente tutti. E poi quello che è più grave sono le GAX, i cosiddetti GAX, cioè le garanzie sulle carte di realizzazione e sofferenza che il governo Renzi, Padoan, eccetera, hanno inserito come legge dello Stato. Secondo voi perché questa cosa è così preoccupante? È preoccupante perché adesso, come garante di ultima istanza, c'è lo Stato che, se va a garantire delle schifezze che hanno fatto i consigli di amministrazione delle banche, è chiaro che devono pagare i cittadini come garanti di ultima istanza, un qualcosa che non sono responsabili, perché sono responsabili i consigli di amministrazione delle banche, ma noi, noi, parliamo noi come persone fisiche, ma anche i nostri figli, i nostri nipoti, dovranno pagare un qualcosa che non è, che non dovrebbe essere al loro carico. Vi siete fatti un'idea di qualche cifra che potrebbe essere in ballo a riguardo? Stiamo parlando dai 300 ai 500 miliardi di euro. Quindi voi dite che questa situazione potrebbe compromettere addirittura la tenuta del bilancio dello Stato negli anni a venire? Ma certamente, perché sarebbe stato come se gli Stati Uniti d'America avessero garantiti con soldi propri i mutui su prime. Sarebbe stato un esplodere non solo gli Stati Uniti d'America, ma tutta l'economia mondiale, perché garantire delle schifezze, dei mutui bidone come erano i su prime, come i 10, i 50, i 100, i 500 milioni di euro che hanno prestato a pioggia ai grandi capitani di industria, che naturalmente senza le garanzie sottostanti non possono essere scossi. E quindi noi ci troveremo a garantire un qualcosa che non è dovuto da parte nostra. Semplificando in modo così un po' naif, si potrebbe dire che si potrebbe creare una sorta di caso Banca Popolare di Vicenza o Veneto Banca all'ennesima potenza, semplificando molto? Beh, sicuramente perché tutte le banche le hanno fatte queste cose qui, non è che la banca piccola, la banca media, la banca grande, no, tutte le banche le hanno fatto. Sicuramente come ho detto fino allo spartiacque del 31 dicembre del 2009. Siccome vengono a riscuotere questi presunti crediti, presunti crediti, attenzione, adesso perché si sono, diciamo così, incagliati e naturalmente li vendono a pacchetti, li vendono a pacchetti, qui recuperi crediti che vengono a bussare alla porta delle famiglie di imprese devono sapere che si troveranno di fronte a dei muri, dei muri messi e retti da parte nostra e diranno no signori, non vi diamo i soldi, perché se voi mi venite a chiedere il frutto di un'usura, sappiate che commettete un reato che si chiama estorsione, perché se noi dimostriamo che c'è l'usura all'interno del vostro credito, voi potete dire che voi l'avete acquistato, l'avete acquistato, ma avete acquistato un incauto acquisto, avete fatto un incauto acquisto, voi se avete acquistato un miliardo di NPL, di crediti deteriorati e non avete guardato dentro ogni credito, sappiate che avete fatto un incauto acquisto e nel momento in cui voi ce li venite a chiedere, anche in base a una recente sentenza di Cassazione, la 53-479 del 15 di novembre del 2017, venite equiparati all'usuraio. Certo, ecco volevo capire, questo proliferare di NPL potrebbe in qualche maniera costituire come alcuni critici del mondo bancario hanno in passato affermato, un modo con cui i grossi gruppi alla fine aggrediscono il patrimonio reale dei piccoli e medi risparmiatori delle famiglie, cioè viene in qualche maniera artatamente alterata una situazione e la banca alla fine della fiera va poi a rivalersi sugli assetti reali delle famiglie, diciamo depauperandole poi del patrimonio personale, è pensabile una lettura degli avvenimenti in questo modo? Certamente perché il meccanismo sta proprio in questo, cioè quello di appropriarsi, io dicevo dieci anni fa il 50, 40, 30% del loro valore, adesso dico 30, 20, 10 e anche meno del valore immobiliare, perché stiamo parlando di una quantità di immobili di centinaia e centinaia di miliardi adesso, ma ogni anno ne vanno in esecuzione dai 300 ai 500 mila, quest'anno parlano di 480 mila immobili che vanno in esecuzione e il caso Bramini è uno di quelli più evidenti, ma Bramini è diventato tristemente famoso perché aveva in compensazione un credito nei confronti della pubblica amministrazione, ma ci sono altri che possono contestare il debito, io stesso, la mia famiglia è riuscita a dimostrare in giudizio, Tribunale di Padova, Corte d'Appello di Venezia e Corte di Cassazione, che il contratto di mutuo stipulato nel 1989, mutuo prima casa, era viziato e non aveva i parametri di riferimento, quindi cosa significa? Significa che si può resistere eventualmente da attacchi da parte delle banche, ecco, teoricamente 10, 15 e anche 20 anni, quindi si può rimanere all'interno della propria abitazione attaccando a sua volta la banca, questa è la verità dei fatti, cioè loro non possono esigere un credito che non sia certo liquido ed esigibile. Chiaro, l'ultimissima cosa, recentemente si è formato un nuovo governo e c'è adesso in Parlamento anche una nuova maggioranza nelle Camere. Per quanto riguarda le leggi, quali sono buone, quali vanno applicate, quali invece vanno eventualmente modificate, per esempio nell'applicazione delle pene? Allora, ecco, è toccato un tasto molto interessante, qui ho di fronte a me la nostra proposta di confedere contribuenti su come incidere sull'usura, sull'usura penale. Allora, l'usura penale è sanzionata troppo poco, perché quelli che vengono presi ad applicarla molto spesso non si riesce a dimostrare la loro penale responsabilità. Allora, diciamo che ci vuole un responsabile penale che risponda in sede bancaria, quindi deve essere responsabile, come esiste in tutti gli ambienti di lavoro, il responsabile dei fortuni, della sicurezza, eccetera, deve esserci anche all'interno di ogni banca il responsabile per il superamento oggettivo del tasso soglia. Quindi risponde lui in caso che la banca abbia superato il tasso soglia di usura. Dopodiché ci vuole un aumento delle pene, ci vuole, io dico, minimo sei anni di reclusione, perché è un reato devastante che distrugge famiglie e imprese. Dopodiché ci vuole l'abrogazione di una legge vergogna, di una legge vergogna che è la 106 del 2011, anzi la parziale abrogazione, perché è una legge molto lunga, è un decreto, mille proroghe, del 2011, del decreto del governo Berlusconi, Bossi, Tremonti, eccetera, che prevede l'innalzamento di circa dai 4 agli 8 punti il tasso soglia di usura. Ora noi abbiamo già predisposto una norma di abrogazione di questa legge, grazie a tutti.